segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e conti con lui sì perché era nelle nostre case e anche nelle nostre televisioni ma anche nei nostri discorsi nelle nostre viscere che si ti fasse pro o contro di lui che lo si ritenesse un delinquente un santo non si poteva evitare di parlarne e noi comici lo abbiamo messo al centro dei nostri pensieri lui era perfetto un pungible naturale come come si faceva non prendere in giro era una perfetta maschera italiana fanfarone un po bugiardo se ne fregava delle regole era simpatico e soprattutto ossessionato dalle femmine abbiamo detto femmine si oggi si dice femmine così diverso da noi è come era floris così diverso da quegli italiani che lo amavano lo detestavano ecco perché era facile prendere in giro silvio perché era come noi era la nostra fotografia ingrandita da